Lei è a Cagliari, nella città di Giuse di Divino. Lei non è mai venuta a Cagliari, ma con la città in qualche modo ci ha cantato, perché lei ha fatto delle belle produzioni con Giuse di Divino. Ci può dare qualche... Ma con la Divino ho fatto diverse traviate. Ho fatto anche Simone, ma ho fatto molto traviate con la Divino ed è stato sempre un grande piacere cantare con lei. Purtroppo vorrà già per lei, ci è mancata troppo presto e abbiamo perso una bellissima voce e una bellissima incontro a te. L'anno scorso abbiamo detto l'apporto come sito scolastico di Cagliari e Giuse di Divino nel quartiere dove è nata, dove è riuscita. E tre anni fa una parte del Parco della Musica, l'arena, è stata inaugurata anche l'arena di Vino, sempre dal comune di Cagliari. Grazie al comune. Ma è bellissima questa. In nessuna parte questo lo fanno, in nessuna parte d'Italia. Abbiamo avuto anche altri grandi cantanti, grandi artisti, ed è difficile vedere il comune, il tale comune dove è vissuto, dove è nato, continui con la memoria di questa dimenticanza. Pensi che addirittura quando è morta da Tebaldi e volevano portarla dentro alla scala, il direttore non ha voluto, ha vietato. Si è fermata davanti, la barra si è fermata davanti alla scala ma non dentro. Grazie. Grazie. Grazie.